Studi in Svizzera e desideri fare la differenza a livello nazionale e internazionale? Allora sei nel posto giusto. Siamo la VSS UNES-USU, l'Unione Svizzera degli Universitari. Siamo un'organizzazione mantello e rappresentiamo le organizzazioni studentesche di tutta la Svizzera. Lavoriamo insieme per tutelare i tuoi diritti e per rappresentare le tue esigenze. Studiamo nelle università, nelle scuole universitarie professionali, nelle alte scuole pedagogiche e nei Politecnici Federali. Come si può partecipare all'USU senza impegno? Nelle nostre commissioni. Qui puoi essere attivo senza la necessità di conoscenze pregresse e fare davvero la differenza. La SOCO è la commissione sociale dell'USU. Essa mira a consentire a tutti gli studenti di proseguire gli studi senza essere limitati dalla propria situazione personale o da svantaggi sociali. Per raggiungere questo obiettivo, la SOCO si batte per borsi di studio adeguate. Per migliorare la situazione finanziaria e abitativa degli studenti. Per maggior considerazione delle disabilità e dei problemi di salute. Per un miglior bilanciamento e compatibilità tra studio e lavoro, famiglia e vita privata. Per un sostegno agli studenti in situazioni di emergenza. Per consentire l'accesso all'istruzione superiore indipendentemente da fattori sociali e altri. Anche senza alcuna esperienza pregressa, è possibile partecipare attivamente e, ad esempio, avere voce in capitolo nei grandi comitati, nell'organizzare eventi, nel contribuire con idee e così via. Potrai inoltre acquisire competenze preziose, ampliare la tua rete di contatti e fare esperienze importanti che potranno esserti utili nella tua carriera futura. Impegnati ora per un futuro migliore nelle nostre università. Contattaci senza impegno all'indirizzo info-vss-unes.ch o scrivici sui social media. Non vediamo l'ora di conoscerti! Grazie!